Sì, ricorderò più questa perché essendo romano e romanista è una vittoria importante per la squadra e speciale per me e speriamo di dare continuità ai risultati adesso. Io ho sempre lavorato da quando sono rimasto per cercare di migliorare e di farmi trovare pronto. Adesso ovviamente spero di avere qualche possibilità in più ma davanti a me ho grandi campioni quindi vedremo. Sì, ancora non ho capito se era fuori gioco o no, se è mio di Borriello però è importante era vincere oggi. Ci racconti com'è l'emozione di entrare in un derby così un po' a sorpresa? Non è che ci ho capito molto perché è stato tutto molto veloce e poi ho pensato onestamente a giocare, a fare la partita sicuramente sentirò la tensione più adesso che durante la partita. Abbiamo fatto già tre risultati utili consecutivi, tre vittorie con Lecce, Basilea oggi quindi siamo in buona forma in riprese e quindi dobbiamo dare continuità adesso ai risultati.